Piercing orecchio è un'operazione molto semplice che consente poi di indossare qualsiasi tipo di orecchino le tendenze però si spingono ben oltre il semplice piercing al lobo dell'orecchio tanto che c'è chi preferisce farsi più buchi alle orecchie per poter utilizzare gioielli diversi la moda non è più solo una tendenza femminile ma anche maschile le statistiche dicono che anche lui nel 83% dei casi ha un piercing da uomo almeno a uno dei due lobby in questa guida vediamo quali sono i tipi di piercing in circolazione e quali sono le tendenze in fatto di orecchini egt 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 shop piercing orecchio ampie possibilità di scelta e lt e lt e lt come quando nascono i piercing all'orecchio piercing orecchio in moda sono sempre stati di pari passo Ogni cultura ha usato i piercings orecchio per esprimere uno stato sociale oppure per indossare ornamenti anche pesanti Dalle nobili europee alle donne delle tribù africane il buco all'orecchio è stato utilizzato come segno di riconoscimento e di eleganza soprattutto femminile Tra gli anni 50 e 70 il piercing all'orecchio diventa uno simbolo di rinascita e di ribellione tanto che è vietato in alcune scuole In questo periodo il piercing viene finalmente fatto da medici quindi in un ambiente sterile Oggi il piercing all'orecchio è fatto solo da specialisti che possono lavorare anche nel tattoo che garantiscono che tutto si svolga In un ambiente e con mezzi sterili Solo negli anni 80 gli orecchini con piercing non sono più un problema e diventano accessori di bellezza al pari di collane e bracciali a rappresentare il proprio stile Tendenze e precauzioni d'uso Quanti tipi di piercing esistono nel mondo della moda oggi? Tutti, basta sapere in quale punto strategico si vuole far fare il piercing e scegliere l'orecchino giusto da indossare al termine dell'operazione Per poter fare i buchi alle orecchie, è importante andare in centri convenzionati In questo modo, si potranno evitare eventuali infezioni, causate proprio dal foro Quando si fa il piercing, può succedere che il lobo sanguini, ma in poco tempo la ferita si sane e si possono indossare tutti i gioielli che si vogliono In questo momento, si può sentire male all'orecchio Per capire dove si vuole far fare il buco, basta usare per i piercing all'orecchio i nomi di quello specifico stile Qui te ne abbiamo lasciato ben 10 tra cui scegliere Piercing orecchio e lobi Il piercing ai lobi è il più noto Si tratta del piercing orecchia, come vuole la tradizione, ovvero un piercing al centro del lobo dall'orecchio Di solito, i genitori lo fanno fare alle bambine da piccole, oppure al massimo nella preadolescenza Il piercing al lobo permette di utilizzare la gran parte degli orecchini e anche quelli a clip, dove non c'è bisogno del piercing Più piercing orecchio sullo stesso lobo dopo aver fatto il primo piercing all'orecchio, si possono fare dei piccoli buchi vicini, sempre nella zona del lobo In questo modo, si possono indossare orecchini come piccole catenine, oppure tre file di orecchini abbinati In base al tuo stile, potrai usare orecchini più trasgressivi, oppure più romantici Il fatto di avere più piercing all'orecchio, infatti, non è più simbolo di trasgressività a tutti i costi Questi piercing, se abbinati ai giusti orecchini, danno un tocco di charme e si possono usare anche se si hanno lavori a contatto con il pubblico Gaging, il piercing gigante forse lo hai già visto, ma non sai che si chiama così Il gaging è noto fin da tempi antichissimi e si è usato per millenni in alcune tribù Per ottenere questo maxi piercing si fa prima il piercing normale al lobo, poi si aumenta pian piano l'orecchino indossato Al giorno d'oggi, questo modello viene usato soprattutto negli States e in Europa per esprimere se stesse con un look molto casual Ma non si intona, purtroppo, con le grandi occasioni Se non esagerato, anche questo piercing all'orecchio viene accettato senza problemi Piercing orecchio helix detto anche helix piercing, consiste nel fare diversi buchi, per un massimo di tre, al lato esterno dell'orecchio In questo modo, si possono tranquillamente indossare orecchini di una certa importanza, come catenine ed elementi incrociati Il risultato è che l'effetto a elica, helix, diventa un simbolo di espressione e di ribellione Se hai un look trasgressivo, puoi pensare di farti questo piercing all'orecchio per dare un tocco di forza al tuo stile Per approfondire, Helix Piercing EGT, 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 Piercing Helix Shop LT, ELT, ELT, si tratta di un piercing che offre effetti sensazionali I buchi alle orecchie si fanno uno al lato esterno e l'altro sopra dal lato opposto Gli orecchini passano così da un piercing all'altro I temi di questi orecchini, di solito indossati a un solo orecchio, sono le frecce, i cuori e i teschi Chi ha un look metallaro non può fare a meno di questo tipo di piercing, che però è riservato solo a chi osa e solo in occasioni particolari Due punti per approfondire Industrial Piercing Fote consigli EGT, 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 Shop Industrial Piercing Ampia scelta ELT, 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 al centro Vuoi inserire una perla nello spazio tra la linea esterna e la conchiglia interna? Bene, questo piercing fa al caso tuo Il buco si fa proprio al centro di questa cavità, che si potrà sfruttare con piccoli orecchini, come le perle o i bijoux Piercing orecchie sul trago Il trago è una piccola zona di cartilagine esterna che protegge l'orecchio Fare un piercing lì è indolore rispetto agli altri piercing ed è molto popolare proprio per questo motivo Il piercing è pronto in pochi minuti e si può usare un po' con bijoux placati o con perle ricercate Piercing sull'antitrago L'antitrago è, invece, il pezzo di cartilagine che si trova di fronte al trago e che protegge l'orecchio in basso Una volta fatto il buco, si possono indossare orecchini che vanno verso l'interno ed elementi punk Questo piercing è l'ideale per le ragazze che hanno questo stile Sulla conchiglia si tratta di fare un piccolo foro nella parte interna della conchiglia e un altro buco dietro la parte esterna dell'orecchio Gli orecchini sono dei piccoli anelli, che collegano le due parti, magari con una pietra preziosa incastonata nel mezzo Piercing orecchie sulla piega rispetto all'orecchio al centro Qui i buchi sono direttamente sulla piega della conchiglia e possono essere fino a tre Per poter inserire più elementi identici in verticale Anche per questo tipo di piercing, se non si usano orecchini pacchiani o troppo evidenti, si può adeguare lo stile alle esigenze di lavoro e di ufficio Quanto costa fare il piercing all'orecchio? Fare il piercing all'orecchio costa dai 10 ai 100 euro, anche se tutto dipende da dove si fanno e in quale centro ti rivolgi Il consiglio è di spendere qualcosa in più, ma di avere un operatore specializzato con tutti gli strumenti in regola Il piercing all'obo è abbastanza semplice da richiedere, ma piercing in zone particolari dell'orecchio, come sulla conchiglia o sulla parte alta dell'orecchio prevedono maggiore cura, quindi si pagano anche di più Chi è allergico al nickel o ad altri elementi metallici, così come evita gli orecchini, dovrebbe evitare i piercing, perché comunque si potrebbero usare oggetti con questo materiale per fare i buchi Se vuoi far fare i buchi alle orecchie a una bimba, il consiglio è di aspettare la preadolescenza, in modo che non si spaventi Cosa fare dopo? Ecco alcune cose da fare dopo aver fatto il piercing e prima di indossare gli orecchini, lava bene le mani prima di prendere in mano l'orecchino Usa una soluzione salina sul piercing per almeno 3 volte In questo modo, non perderai tempo con vari tentativi prima di poter indossare i tuoi gioielli preferiti La pulizia? Se hai fatto il piercing sul lobo, dovrai tenere questo regime per 6 settimane, mantenendo l'orecchino e lavando ogni 2 settimane La parte interessata, mentre per altri tipi di piercing è necessario aspettare 12 settimane Se è stato messo un orecchino per mantenere il buco, allora dovrai tenere l'orecchino senza toglierlo per tutto il periodo stabilito Quindi, per tutte le 6 settimane Per evitare che il buco si richiuda, dovrai tenere gli orecchini per molto tempo e non lasciare libero il buco per non più di 2 ore Come indossare gli orecchini? Gli orecchini dovrebbero essere coordinati sia al colore della pelle che all'outfit Molto dipende anche dall'occasione Per le serate che contano può puntare sui gioielli In oro per chi ha la pelle olivastra In oro placcato rosa o in argento per chi ha una pelle molto chiara Le tonalità rame e bronzo sono, invece, ottime, per chi ha la pelle un po' più scura Quando si scelgono gli orecchini, è importante non esagerare con i gioielli Usa, per esempio, gli orecchini pendenti quando hai un abito da sera nero o bianco senza particolari dettagli Se hai già messo una collana importante, meglio portare orecchini meno vistosi Gli orecchini pesanti si evitano con un look casual, perché possono sembrare pacchiani Per andare sul sicuro, scegli orecchini di colori diversi, ma sobri Gli orecchini sul lavoro non devono essere un fastidio, ma anche un piccolo bijou cartoon Oppure un elemento che rappresenti un po' quella che è una tua passione Un cuoricino o una stellina, fa il suo bell'effetto Tutte le tipologie di orecchini ora che hai i piercing alle orecchie È ora di scegliere il tipo di orecchini adatto Oltre al modello, tieni conto che un certo tipo di orecchino si abbina a uno stile predefinito Ecco dei pratici tips per aiutarti a scegliere Orecchini classici Gli orecchini classici, con il perno da inserire una volta indossato l'orecchino per mantenerlo Sono ideali sia per tutti i giorni che per le occasioni speciali Le perle e gli elementi con brillanti, oppure pendenti, dovranno essere indossati solo nelle grandi occasioni Orecchini pendenti Oltre alla grandezza dei pendenti, bisogna vedere qual è il tema e in quali materiali sono realizzati Ci sono pendenti di forma geometrica e dei colori sgargianti che si usano nei look casual e sbarazzini I pendenti finemente lavorati vanno lasciati per eventi nelle sale da concerto Cerchi Cerchi in oro sono un altro grande classico Qui, la differenza la fa la grandezza, più grandi sono, più saranno evidenti, meno saranno le occasioni per indossarli con stile I cerchi possono essere sottili, oppure anche in argento In alcune collezioni, i cerchi sono molto spessi, ma anche qui si tratta di accessori da indossare solo quando serve dare un tocco di charme Orecchini ad albero Gli orecchini a candelabro o ad albero si chiamano così perché sono composti da più pietre preziose, come se ogni pietra fosse frutto di un albero ideale messo al contrario Chi ha uno stile romantico e un po' stravagante, può indossarli senza problemi Con nappe ben diversa l'idea degli orecchini con pom-pom, oppure con nappe in argento Questi orecchini pendenti si trovano anche pensati per le più piccole, con campanelli e fiocchetti Infine, gli orecchini jacket si utilizzano quando esci con le amiche o nel tempo libero Sono molto simpatici, perché si usano con un solo piercing al lobo dell'orecchio, ma vanno a decorare anche tutta la parte inferiore del lobo La moda detta le tendenze in fatto di orecchini e di gioielli in genere, quindi è facile trovare quello che si intona meglio con quello che si indossa Gli orecchini da sera hanno un fascino unico, ma anche i gioielli che si indossano tutti i giorni possono diventare un dettaglio speciale per farsi guardare Per concludere quando si parla di piercing orecchio, è l'effetto finale e lo stile che si vuole ottenere che conta C'è chi ha più tradizionale e preferisce il semplice buco al lobo C'è anche chi, invece, preferisce usare con veri e propri gioielli, quindi ha bisogno di più buchi ben definiti La cosa importante è avere un po' di pazienza quando ci si rivolge al centro convenzionato, un po' di dolore si sente, ma ne vale Assolutamente la pena per poter indossare gli orecchini che si desiderano tanto Una volta fatto, il piercing resta identico e non è necessario procedere con una seconda operazione, a meno che non si richiuda perché Non hai indossato gli orecchini abbastanza a lungo Quali sono i tuoi orecchini preferiti e quali tipi di piercing all'orecchio ti senti di consigliare o proveresti? Lascia un commento per dare a tutte un buon consiglio, oltre ai suggerimenti di oggi Alcune idee con foto di piercing all'orecchio Piercing orecchio classico ed elegante indicato soprattutto per serate particolari e chic Questa tipologia di orecchino va abbinata con un outfit altrettanto elegante Piercing industrial più helix e lobo